Questa foto che io feci 30-35 anni fa è stata pubblicata a piena pagina dalla Repubblica, pubblicata in una pagina e mezza addirittura, con uno scritto contro la chiesa, credo di Maltese, credo, comunque la foto è questa. Io ho scritto naturalmente perché non intendevo che una mia foto servisse contro quello che io penso, ho scritto io, ho scritto l'editore, ci siamo mossi ma nessuna risposta, perché oggi è così, se uno ha le spalle grosse fa quello che vuole.